Edder, Mech, Pallister. Laura, donna di 74 anni, è stata trovata morta mercoledì nella sua casa di Fiume Veneto, Pordenone. Oggi, a distanza di pochissimi giorni, è stato fermato il marito Severino, di 75 anni, con l'accusa di omicidio. La donna, inferma, è stata ritrovata dalle assistenti domiciliari che si prendevano cura di lei. Il medico di famiglia ha poi stabilito che la morte risaliva almeno al giorno precedente al ritrovamento, ma il marito non aveva chiesto aiuto, questo ne ha sospettito ovviamente il medico, che ha informato la procura. Erano inoltre presenti delle strane echimosi sul corpo. Avviate le indagini, è emerso che il marito nel 2018 era stato autore di maltrattamenti verso la donna e che nel 2019 era stato addirittura allontanato da casa. Oggi poi la svolta con il fermo del marito che si è difeso dicendo di non essersi accorto minimamente del problema di salute occorso alla moglie. L'appartamento della coppia è stato ovviamente sequestrato. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale! Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale!